Entro pochi giorni verrà trasmessa la bozza definitiva della Convenzione per le opere compensativa e lavori della terza corsia autostradale. Oltre ad affermarlo oggi in conferenza stampa, il sindaco di Fano Massimo Seri lo aveva annunciato ieri sera durante il programma di Fano TV, primo cittadino. Proprio oggi ho ricevuto la telefonata al Ministero delle Infrastrutture che mi hanno garantito che lunedì o martedì, la prossima settimana, ci verrà inviata la bozza definitiva della Convenzione per le opere compensative. Qui parliamo di 55 milioni di interventi che sono cantierabili entro l'anno nella nostra città e qui diventa questa una bella risposta anche a tutto il tema della viabilità. Appena firmata la Convenzione verrà avviato un iter di qualche mese perché dovrà essere adottata dal Consiglio Comunale di Fano, dalla provincia e dalla regione. I progetti sono già paltabili e quindi con il timbro da parte del Ministero i lavori potrebbero essere eseguiti nel giro di pochi anni. Per quanto riguarda le scogliere per la difesa della costa, invece, sono necessarie delle modifiche in base alle indicazioni della regione. Secondo l'ente, l'altezza deve essere aumentata da un metro a un metro e mezzo. Ieri mattina, intanto, Serie ha incontrato il professor Mancinelli e lo staff tecnico del Comune per fare il punto della situazione. La prossima settimana poi si svolgerà un ulteriore incontro con la regione prima di presentare in modo definitivo il progetto che riguarda tutto l'intervento. Dopodiché, tenendo conto dei 3 milioni di euro a disposizione, si deciderà sul da farsi. Queste risorse, però, non sono sufficienti a far arrivare le scogliere fino al porto, ma verranno realizzate in modo tale da proteggere comunque le spiagge che con le ultime ondate di maltempo hanno subito danni ingenti. L'amministrazione dovrà inoltre cercare altre risorse messe a disposizione dal governo per l'assetto idrogeologico in cui rientra appunto la difesa della costa. Il 30 aprile prossimo verrà presentata l'istanza per la valutazione di impatto ambientale, procedimento importante per dimostrare e certificare che l'opera non rechi danni. Dopo la pubblicazione, che dovrebbe essere nei giorni successivi al 30 aprile, scatteranno i 150 giorni previsti, ma che potrebbero anche essere di meno, per chiudere la procedura di valutazione di impatto ambientale e poi si potrà procedere con il resto della progettazione per arrivare a consegnare i lavori entro il 15 dicembre. Un ostacolo a superamento della valutazione di impatto ambientale però è dato dagli scaricatori di piena ai due estremi di via Le Ruggeri, visto che la posa in opera delle scogliere inizierà nel 2016 ma lo scolmatore di via Pisacane non verrà realizzato prima del 2017. Saranno necessari ulteriori lavori per un importo di circa un milione di euro. Si rende necessario introdurre non nelle somme dei 3 milioni di euro ma con altro intervento la realizzazione di due condutture sottomarine che possano portare le acque reflue di sfioro al di là della linea delle scogliere, pensiamo almeno a 300 metri dalla costa.